detenzione legale di arma e munizioni arrestato un giovane dalla guardia di finanza soccorso barcone con migranti nel mediterraneo a bordo otto cadaveri indennizzo di 77 mila euro alla famiglia di una donna di gela morta a distanza di 24 giorni dalla somministrazione di un vaccino calcio eccellenza domenica alle 15 e 30 impegno casalingo per la nissa arriva la profavara terza forza del girone a volley sarebbe due femminile riprende il campionato alba verde caltanissetta sabato in trasferta a reggio calabria ben trovati arrestato a caltanissetta dalla guardia di finanza un giovane per detenzione di arma e munizione il servizio i finanziari del gruppo della guardia di finanza di gela nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne per il reato di detenzione illegale di un'arma da sparo avrebbero visto un'auto in sosta in una strada isolata dell'agro di niscemi nel corso di un servizio di controllo economico del territorio alla vista della pattuglia delle fiamme gialle l'occupante del mezzo si sarebbe dato alla fuga a piedi provando a nascondersi in un campo coltivato nelle vicinanze i militari avrebbero intimato l'alta inseguito il giovane che l'altezza di una vasca per la raccolta delle acque si legge nel comunicato vi ha lanciato una pistola detenuta nei pantaloni il 23enne sarebbe stato raggiunto e bloccato e poco dopo recuperata anche l'arma un revolver carico con sei cartucce dalla successiva perquisizione dell'autovettura che sarebbe risultato oggetto di furto sarebbero state rinvenute anche due maschere in plastica e tessuto due passamontagne una tuta da lavoro al termine dell'attività di rito su disposizione del pm di turno il giovane nei cui confronti vige la presunzione di innocenza si precisa ancora nel comunicato è stato tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria a seguire il giudice presso il tribunale di gel ha convalidato l'arresto continuiamo con la cronaca soccorso nel mediterraneo un barcone con migranti a bordo otto cadaveri sono morti di fame di freddo i cinque uomini e le tre donne una delle quali in avanzato stato di gravidanza che sono stati ritrovati giovedì sera dalla motovedetta della guardia costiera che ha effettuato il soccorso di un barcone a 42 miglia da lampedusa in acque maltesi i migranti hanno raccontato ai mediatori culturali di essere partiti da sfax in tunisia alle tre di sabato scorso con l'imbarcazione di sei metri dopo essere stati per mesi rinchiusi in una safe house ci sono anche due dispersi secondo quanto raccontato dei migranti soccorsi i superstiti hanno riferito che sul barcone c'era una donna con il suo neonato di quattro mesi che a caso del freddo è morto durante il viaggio e la madre per disperazione lo ha gettato in mare un uomo si è tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo ma sarebbe annegato fra le onde anche la madre del piccolo è morta poche ore dopo aver gettato in acqua il suo bambino il suo cadavere così come quello degli altri sette compagni di viaggio è stato lasciato all'interno dello scafo intanto la procura di agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla nuova tragedia del mare avvenuta a 42 miglia da lampedusa le ipotesi di reato al momento a carico di ignoti sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato sono quasi 200 i migranti sbarcati fra la notte e l'alba a lampedusa dopo che tre diversi barconi sono stati agganciati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto rivolgo un appello al presidente del consiglio e giorgia meloni ha detto il sindaco delle pelagie filippo mannino il governo non ci lasci da soli a gestire quest'immane tragedia aiutateci in questo modo non riusciamo più a gestire indennizzo di 77 mila euro alla famiglia di una donna di gela morta a distanza di 24 giorni dalla somministrazione di astrazeneca la famiglia di zelia guzzo l'insegnante di gela nel nisseno di 37 anni deceduta dopo 24 giorni dalla somministrazione del vaccino astrazeneca avrebbe ottenuto dal ministero della salute un indennizzo di 77 mila euro lo ha reso noto l'avvocato valerio messina che assiste la famiglia i periti nominati dalla procura ha detto l'avvocato hanno stabilito come in altri otto casi in italia che la causa della morte fu proprio la somministrazione del vaccino basato sull'utilizzo dell'adenovirus insegnante madre di un bimbo di un anno e mezzo è morta per una trombosi celebrale provocata dall'inoculazione del vaccino la famiglia dell'insegnante definisce la cifra dell'indennizzo irrisoria offensiva per una perdita che ha provocato tanto dolore saranno risarciti il marito il figlio e le sorelle la vita non ha prezzo dice il marito della docente andrea nicosia ma questa somma è un'offesa per il mio bambino rimasto orfano a due anni abbiamo persino dovuto batterci per ottenerla mi sento doppiamente tradito dallo stato andremo avanti in sede penale e civile per avere giustizia ha aggiunto il legale la famiglia guzzo sempre secondo il legale è stata la prima in italia ad aver ricevuto l'indennizzo a luglio scorso recentemente sarebbero stati risarciti con la stessa somma anche i genitori di un insegnante 32enne di genova francesca tuscano in italia sono otto le morti che sarebbero state accertate in seguito all'inoculazione di astrazeneca anche loro sono in attesa di indennizzo da parte dello stato zelia guzzo è stata vaccinata il primo marzo del 2021 pochi giorni dopo ha iniziato a stare male il 12 marzo è stata ricoverata all'ospedale di caltanissetta dove è deceduta il 24 marzo adesso andiamo a ravanusa dove c'è stato un tentato omicidio in un bar del centro i dettagli nel servizio tentato omicidio in provincia di agrigento nei confronti di un trentenne l'episodio si è verificato giovedì sera a ravanusa dove un uomo tunisino è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un bar nel centro della località in provincia di agrigento l'uomo ferito è stato soccorso e inizialmente non ritenuto in pericolo di vita è stato trasportato all'ospedale di canicattì poco dopo a causa di alcune complicazioni è stato trasferito all'ospedale villa sofia di palermo dove è ricoverato in rianimazione le indagini sul tentato omicidio sono condotte dai carabinieri che hanno già verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona adesso torniamo a caltanissetta randagismo riunione della conferenza provinciale permanente in prefettura nella mattinata di ieri il prefetto di caltanissetta ha presieduto una nuova riunione da remoto della conferenza provinciale permanente cui hanno preso parte oltre al comandante provinciale dei carabinieri al capo di gabinetto della questura i sindaci della provincia e responsabili del servizio veterinario dell'asp di caltanissetta finalizzata a verificare la fattibilità di soluzioni operative efficaci per risolvere il problema del randagismo che come emerso da diverse segnalazioni interessa diversi centri del territorio provinciale in apertura il prefetto ha sottolineato come il fenomeno del randagismo che coinvolge il profilo della sicurezza oltre ad incidere spesso in maniera significativa sui bilanci degli enti locali richieda per la sua risoluzione l'elaborazione di iniziative unitarie in grado di sviluppare un'azione sinergica che vada a vantaggio di tutti i comuni della provincia nissena in particolare il prefetto nel garantire il massimo supporto tramite l'organismo della conferenza provinciale permanente quale sede privilegiata per la risoluzione di tematiche che richiedono per la loro risoluzione il coinvolgimento di diversi soggetti ha rivolto l'invito ai sindaci prima di un prossimo incontro a elaborare in maniera congiunta in sede di conferenza dei sindaci validi progetti che affrontando la problematica in una dimensione provinciale consentano di approntare una soluzione univoca per risolvere il serio problema del randagismo. La realizzazione di tali progetti ha infatti rimarcato il prefetto oltre a permettere l'attuazione di soluzioni efficaci e innovative per debellare il fenomeno del randagismo rappresenterebbe l'occasione per sensibilizzare la collettività ad un maggior rispetto degli animali e contrastare il triste fenomeno dell'abbandono contribuendo più in generale ad accrescere il senso civico. I sindaci presenti hanno accolto con grande favore le proposte e si sono mostrati disponibili a mettere a fattor comune idee e progetti con gli altri comuni della provincia per mettere a punto un sistema coordinato che soddisfi in maniera efficiente le esigenze dell'intero territorio. Dipendenze potenziato il tavolo tecnico in prefettura. Il servizio. Potenziato il tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti. Lo ha deciso l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo che oggi ha firmato il decreto con cui si dà nuovo impulso a questa realtà istituita nel 2019 che svolgerà un ruolo fondamentale soprattutto nel contrasto al gioco d'azzardo patologico. Un intervento che risponde alle indicazioni previste dai piani nazionale e regionale della prevenzione 2020-2025. Numerose evidenze scientifiche, comenta l'assessore Volo, hanno dimostrato che le nuove tecnologie possono comportare, se non usate nella maniera corretta, dipendenze e disturbi della personalità in fasce vulnerabili della popolazione. Per questo lavoreremo in maniera organica per educare e sensibilizzare i soggetti più fragili e in particolare i più giovani. Tra le attività prevista infatti c'è anche il rafforzamento della collaborazione tra le aziende sanitarie e l'ufficio scolastico regionale per organizzare una serie di incontri con esperti del settore per gli studenti di tutte le province della Sicilia. Il coordinamento dei lavori del tavolo è affidato al dirigente generale del DASOE Salvatore Rechirez. Oltre ai dirigenti responsabili del DASOE ne faranno parte anche Roberto Cafiso, responsabile dipendenze patologiche dell'ASP di Siracusa, Daniele Labarbera, ordinario presso la clinica psichiatrica dell'Università di Palermo, Giuseppe Mustile, direttore dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche dell'ASP di Ragusa, Francesca Picone, dirigente ASP di Palermo e Giovanni Utano, psicoterapeuta dell'ASP di Messina. A seconda delle tematiche trattate, inoltre, il tavolo potrà essere integrato di volta in volta da altre specifiche professionalità. Regione 27 milioni di euro per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole superiori. Sono stati stanziati 27 milioni e 100 mila euro dall'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, somme da destinare a servizi di assistenza in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori siciliane di secondo grado e che verranno suddivise tra le città metropolitane e i liberi consorsi comunali in relazione al numero di alunni con disabilità assistiti nel corrente anno scolastico. Si prevede intanto la liquidazione già nei prossimi giorni della metà delle risorse stanziate. Le città metropolitane e i liberi consorsi comunali delegati a fornire i servizi avevano già rappresentato la necessità, si legge nel comunicato, di ulteriori risorse per garantire l'assistenza fino alla conclusione dell'anno scolastico. L'obiettivo, infatti, era quello di evitare che ci potesse essere un'interruzione. Ho sollecitato gli uffici, affermato l'assessore regionale Nuccia Albano, a predisporre con tempestività lo stanziamento e l'erogazione di questi fondi per scongiurare l'interruzione dei servizi pubblici essenziali. Il nostro scopo è migliorare la qualità della vita, aggiunge, degli alunni con disabilità e favorirne l'integrazione nel contesto scolastico, ma anche aiutare e sostenere le famiglie dei soggetti più fragili. Escursionismo, domenica, l'iniziativa da parte di Lega Ambiente. Il Circolo di Lega Ambiente di Caltanissette organizza una giornata di volontariato ed escursionismo domani 4 febbraio. Ogni anno, infatti, il Circolo prepara dell'iniziativa in occasione della giornata mondiale delle zone umide, ricorrenza celebrata il 2 febbraio. Una giornata che ricorda la Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, firmata nel 1971, proprio il 2 febbraio. La Convenzione di Ramsar, si legge nel comunicato, è lo strumento che fornisce ai 170 paesi firmatari le linee guida per la conservazione e l'uso razionale di queste aree e delle loro risorse. Ed è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, si legge ancora, e svolgono una funzione fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Sarà un weekend intenso per il Circolo Nisseno di Rega Ambiente, che domenica farà conoscere un altro artista locale a chi parteciperà all'iniziativa Allora d'Arte. Si incontreranno infatti in via Fraggio Ratana alle ore 11.30. Per la giornata mondiale delle zone umide, insieme a studenti e a volontari, andremo a ripulire un tratto di fiume salito. L'appuntamento è alle ore 9, qua davanti all'istituto di istruzione superiore Alessandro Volta. L'importanza della giornata è dovuta al fatto che le zone umide sono zone molto importanti per la biodiversità, per la cattura dell'anidride carbonica e quindi vanno preservate, quindi sarà una giornata di volontariato. Domenica invece faremo un altro appuntamento dell'ora d'arte, l'abbiamo chiamata, un appuntamento incognito, le persone non sanno dove andiamo, per andare a conoscere artisti e artigiani della città. Verranno coinvolti dunque anche gli studenti. Sabato 4 febbraio, Rega Ambiente Caltanissette infatti realizza l'iniziativa in collaborazione con la Dasti e l'istituto di istruzione superiore Alessandro Volta. Domani, questo sabato, andremo a visionare lo stato in cui si trova il fiume salito, andremo a ripulire perché abbiamo già visionato, ci sono tratti sotto passaggi in cui purtroppo le persone buttano rifiuti in Gombrandi e non, quindi andremo un po' a ripulire, ma servirà anche per sensibilizzare i ragazzi, quindi le giovani generazioni, a capire dell'importanza della biodiversità, delle zone umide che vengono utilizzate dalla fauna migratoria e non solo. Festa della Candelora a San Pietro, ricorrenza nel segno della tradizione. Con le candele accese in mano alcuni parrocchiani hanno fatto il loro ingresso nella parrocchia di San Pietro di Caltanissetta creando una piccola processione durante la messa delle ore 18 di giovedì 2 febbraio in occasione della festa della Candelora. A 40 giorni di distanza dal Natale infatti nelle parrocchie viene celebrata questa ricorrenza e anche nella parrocchia nissena di San Pietro sono state benedette le candele. Il nome di questa festa liturgica è la presentazione di Gesù al Tempio, era prassi al tempo di Gesù, 40 giorni dopo la nascita la famiglia presentava il proprio bambino, il primo genito al sacerdote e in quel momento veniva a essere riscattato quello che era stato l'impegno preso da Mosè e dal popolo di Israele nel momento della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Sono tante le famiglie che molte volte ci presentano i propri figli, soprattutto nella preghiera, nelle scelte, nelle tribolazioni, nelle difficoltà. Penso soprattutto ai tanti giovani costretti o per lavoro o per studio a lasciare le nostre patrie, a lasciare le nostre parrocchie e penso che in maniera altra, anche se non attraverso la liturgia, avviene questa presentazione. I genitori consegnano i propri figli. I figli, lo sappiamo bene, non sono proprietà privata, sono un dono prezioso e ogni coppia sa che si prepara a questo distacco e il dono porta a porta e comporta un sacrificio. Allora questa sera abbiamo voluto pregare insieme, accendendo tutte le candele qui in chiesa, non solo per quell'evento della vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ma per quei tanti genitori, per quelle tante famiglie, per quei tanti figli. Una benedizione particolare perché oggi, secondo la tradizione della chiesa, è anche la giornata della vita consacrata. E allora era doveroso ricordare nella nostra comunità l'impegno alla preghiera, non solo per l'evocazione alla vita matrimoniale, alla vita sacerdotale, ma anche alla vita consacrata. Sorrioli, Sorzoi, la Sor Giuseppina sostengono tanto la nostra comunità e hanno bisogno della nostra preghiera e del nostro sostegno. Alla fine della messa il parroco, padrerino dell'ospedale Longi, si è avvicinato alla statua della Madonna che si trova vicino al fonte battesimale. Abbiamo qui in chiesa una bellissima statua, risalente al 2018, di Maria Madre della Chiesa, molto venerata non solo dai parrocchiani, ma dall'intera cittadinanza. Abbiamo concluso il tutto con, così come la processione d'ingresso, abbiamo condotto le fiaccole all'altare, adesso ci siamo ricati ai piedi di Maria. A lei abbiamo presentato le necessità di tutti noi, perché lei attraverso il suo figlio Gesù presenti ancora una volta a Dio ogni nostro bisogno. Passiamo alla cultura con l'iniziativa della Coldiretti, chiama gli studenti delle scuole superiori, prendi un libro e lascia un libro, il servizio. Prendi un libro e lascia un libro. Si chiama così l'iniziativa della Coldiretti e Mercato Campagna Amica di Caltanissetta, in collaborazione con la cooperativa Etnos, per far conoscere nuovi mondi e nuove esperienze. All'evento di presentazione del Book Crossing, che si è svolto stamani insieme al Presidente Francesco Cucurullo, hanno partecipato gli studenti dei corsi linguistico e coreutico dell'Iceo Classico Ruggero VII di Caltanissetta, accompagnati da Loredana Scintilla, referente del progetto lettura dell'istituto, e da Claudio D'Agostino, coordinatore del Mercato Nissero. I mercati Campagna Amica vogliono essere un contenitore culturale dove ci sono parecchie iniziative. L'ultima appunto, quella del libro, dove le persone che vengono a comprare il mercato hanno l'opportunità di prendere un libro, scambiandolo con uno loro, e quindi condividere la cultura del buon cibo e dei valori connessi al cibo, quindi salubrità, genuinità rispetto per l'ambiente, e anche alla cultura cartacea. In un mondo oramai che vive soprattutto di digitale, non dobbiamo dimenticarci l'importanza di sfogliare un bel libro. Abbiamo voluto partecipare a questa bellissima iniziativa Prendi un libro, lascia un libro, per sottolineare l'importanza della cultura, e in particolare quella della lettura. E così, magari, le persone durante la spesa nel mercato di Campagna Amica, dove i cibi sono a chilometro zero, oltre ad arricchire l'organismo e il corpo, è possibile anche arricchire la mente, prendendo un libro e lasciando un libro. Attività nei laboratori al Liceo Alessandro Volta, in occasione del Capodanno Cinese. Attraverso dei laboratori, ragazzi e ragazze del Liceo Linguistico Anglo-Cinese del Volta di Caltanissetta, hanno celebrato il Capodanno Cinese. Hanno accolto con un workshop, infatti, nei giorni scorsi l'inizio del nuovo anno, secondo il calendario lunare cinese, l'anno del coniglio. I laboratori hanno permesso agli studenti di approfondire le proprie conoscenze su diversi aspetti della tradizione della cultura cinese, dalla calligrafia dedicandosi alla scrittura artistica di frasi augurali, alla cucina attraverso la preparazione dei ravioli cinesi. L'esperienza culinaria era stata vissuta dagli studenti anche prima del Natale, quando i ragazzi del corso di anglo-cinese hanno preparato delle pietanze tipiche della cultura cinese e inglese durante l'evento English Breakfast. Apriamo la parentesi dello sport, con il calcio in primo piano, la Serie D, la San Cataldese si prepara alla trasferta di Acireale alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva. Il servizio. Continua il cammino della San Cataldese nel girone I di Serie D. Dopo la preziosa vittoria contro la Mezzeterme, la squadra di Infantino si appresta a fare vista alla Cireale nella partita in programma domenica prossima, 5 febbraio alle 14.30, allo stadio comunale Aci e Galatea. Per la San Cataldese l'occasione di dare continuità all'ottima prestazione di domenica scorsa, mentre per la Cireale l'obiettivo sarà riscattare la deludente sconfitta patita con il Castrovillari. Intanto continua il monologo del Catania, primo in classifica, a 14 punti, dall'Ocri secondo, in un girone appassionante in cui la squadra Verdamaranto sta dimostrando la virtù del percorso intrapreso la scorsa estate. Questo è il programma completo della ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone I. Domenica 5 febbraio alle 14.30, Canicattì, Santa Maria e Cilento, Castrovillari-Catania, città di Acireale-San Cataldese, cittanovese-Trapani, la Mezzia-Terme-Realla-Versa, l'Ocri-Licata, Mariglianese-Vibonese, mentre Paternò-San Luca e città di Sant'Agata-Ragusa saranno disputate alle 15.00. Proseguiamo con il calcio, eccellenza domenica al Marco Tomaselli alle 15.30, arriva la terza forza del girone A, il Profavara, che sfiderà la Nissa. Dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo del fanalino di Coda Parmonval, la Nissa è attesa nel fine settimana ad un match insidioso contro la Profavara, attualmente terza forza del campionato dietro le due pretendenti alla vittoria finale del campionato, Enna e Acragas. Gli uomini di Alessio Sferrazza sono chiamati a ripetere la vittoria di Palermo e si affidano al fattore campo dove si augurano l'apporto del pubblico del Tomaselli. Partita non facile, anche perché l'avversario sta facendo un buon campionato e punta a mantenere la propria posizione in classifica fino al termine della stagione, andandosi a giocare i play-off. Per i biancoscudati i play-off rimangono un sogno e solo una serie di risultati utili consecutivi possono portare la società nissena a sperare in un qualcosa di più di una tranquilla e comoda posizione in classifica. Passiamo al volley con la serie B2 femminile che riprende con l'Alba Verde Caltanissetti che si appresta alla trasferta di Reggio Calabria, il servizio. Dopo tre settimane di pausa agonistica coincidenti con la fine del girone di andata e l'inizio del ritorno, l'Alba Verde scende in campo nuovamente in trasferta. La squadra nissena sarà infatti impegnata sabato 4 febbraio a Reggio Calabria in casa della Volley Region, formazione che attualmente staziona al decimo posto della classifica. La trasferta oltre stretto è vista con qualche apprensione in casa nissena perché il campo di Reggio è stato sempre difficile da espugnare in quanto vi hanno vinto solo la capolista Zafferana e il Cus Catania e perché le ragazze di Francesca Scollo hanno perso le ultime due gare giocate lontano dal pala Cannizzaro. Il match si disputerà con inizio alle ore 18.30 al Palacolor Pellaro Chiudiamo con il basket serie di maschile l'Invicta ospita il Sant'Agata dopo la vittoriosa trasferta di Cefalù. Dopo la vittoriosa trasferta di Cefalù che ha sancito l'aritmetico primo posto in classifica e approda i play-off da giocare a fine anno con le squadre del Cironia, l'Invicta Basket scenderà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 al Palacanizzaro contro il Sant'Agata nella decima giornata di ritorno. I ragazzi del coach Spena verranno abbracciati dal pubblico nisseno che segue con molta affluenza le geste della società nissena e vorranno continuare nella loro marcia di vittoria per inanellare altri record sia di squadra che personali per i ragazzi che scenderanno sul parquet. Serie D Girone B decima giornata Leonardo Da Vinci Capo Basket Invicta Sant'Agata Virtus Trapani Zannella Cefalù Riposa Basket Messina Era l'ultima notizia è tutto vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato quando l'Italia sempre terra di sconto tra l'alta pressione delle azzorre e correnti decisamente più freddi in discesa dalla Scandinavia verso l'Europa orientale che marginalmente lambiranno le nostre regioni. Come lo possiamo vedere con questa grafica ci sarà qualche precipitazione sui settori alpini di confine Alto Adige Dolomiti Venete bello altrove ma entro pomeriggio qualche accenno instabile non escluso anche l'estremo sud. Con la prossima immagine possiamo notare come la giornata sarà stabile su molte zone del centro nord a parte dei fiocchi di neve sulle alpi più sedentrionali e poi dicevamo un po' di variabilità in arrivo per il basso adriatico ed il basso tirreno in contesto di variabilità locali spot piovosi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pantano Via Don Minzoni Servizio notturno La China Via Fraggia Ratana Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori